Quale uso io di Nuvegna Pocket? Nuvegna Pocket Sicure e vai Nuvegna Pocket E vai Sì, Nuvegna Pocket Perché Nuvegna Pocket è l'assorbente ripiegato in bustina che mi dà morbidezza, protezione e sicurezza Io lo porto sempre con me Nuvegna Pocket E ti muovi sicura Quale uso io? Nuvegna Pocket Sì, Nuvegna Pocket Perché Nuvegna Pocket è l'assorbente ripiegato in bustina che mi dà morbidezza, protezione e sicurezza Io lo porto sempre con me Nuvegna Pocket E ti muovi sicura